Benissimo, adesso passo la parola alla mia collega Mariangela Donati, lei si concentrerà su quelli che sono gli aspetti più tecnici della tecnologia, poi invece noi ci ritroviamo nella seconda parte dove affronteremo vari casi di studio e configurazioni di intervento. Grazie e a dopo. Buongiorno, grazie Marcello. Io vi presenterò Petrofix, questa tecnologia per il trattamento di elevate concentrazioni di idrocarburi. Petrofix è una tecnologia relativamente nuova, è stata introdotta nel mercato nel 2018 ma in Europa è stata disponibile solo a partire da inizio 2019. Regenesis propone un'altra serie di tecnologie per il trattamento di idrocarburi, in primis l'ORC che è una tecnologia che opera per biodegradazione aerobica, è una tecnologia a rilascio controllato di ossigeno. Un'altra tecnologia per il trattamento di idrocarburi è Regenox, che è un trattamento isco di ossidazione chimica, che lavora con un processo simile a Persufox, che è un altro isco. Un'altra tecnologia per il trattamento di idrocarburi è Petroclins, che opera invece un disorbimento. E infine Plumstop, che è un'altra tecnologia a base di carbone attivo colloidale. Abbiamo poi un'altra serie di tecnologie che lavorano invece per il trattamento di solventi clorurati o altri contaminanti emergenti come i Pifas, oppure ad esempio per il trattamento di cromo esavalente. In questo webinar vedremo, come vi ha anticipato Marcello, inizialmente i dettagli dei processi di trattamento che avvengono grazie a Petrofix. Petrofix opera su due processi, un assorbimento rapido degli idrocarburi e successivamente potenzia la biodegradazione anaerobica decontaminante. Vedremo diversi scenari di applicazione in cui si può utilizzare Petrofix e infine vedremo diversi casi studio, quindi casi reali in cui è stata applicata la tecnologia, dove osserveremo sia l'assorbimento operato da Petrofix, ma avremo anche prove, mostreremo gli effetti anche di potenziamento della biodegradazione dei contaminanti idrocarburici. Questi sono i quattro requisiti fondamentali per delle bonifiche in situ ottimali, quindi l'aspetto fondamentale è la reattività, ma sono di fondamentale importanza anche la longevità e la distribuibilità dei reagenti in acquifero. Ovviamente la facilità di utilizzo è un altro aspetto non trascurabile. Regenesis negli ultimi anni ha offerto, ha cominciato a offrire una serie di tecnologie in forma colloidale, partendo con Plumstop e successivamente proponendo Petrofix e S-Micro-GVI. La forma colloidale è una vera e propria evoluzione nel settore delle bonifiche in situ, perché ci consente di raggiungere una distribuzione e una longevità veramente ottimali in acquifero. Andiamo a vedere nello specifico Petrofix. È una tecnologia a base di carbone attivo e elettroaccettori. È una tecnologia bicomponente. Si ha una prima componente che contiene particelle di carbone attivo alla microscala ed elettroaccettori a rilascio lento, rilascio controllato, disolfati. C'è poi una seconda componente che contiene una miscela di elettroaccettori, che può essere a base di nitrati e solfati oppure di soli solfati. Abbiamo macinato il carbone attivo fino a raggiungere dimensioni di circa 1-2 micron, che sono, per farvi un esempio, le dimensioni delle cellule del sangue. Sono anche le dimensioni dei microorganismi che sono presenti naturalmente in acquifero e che biodegradano i contaminanti. Quindi creando un carbone attivo così fine si agevola l'effetto del trattamento in situ, anche perché queste dimensioni sono nettamente inferiori a quelle che sono generalmente le dimensioni tipiche dei poli degli acquiferi. Quindi abbiamo reso il carbone attivo molto ben iniettabile e ideale per questo tipo di trattamento. Grazie a Petrofix, come anticipato prima, avevano due processi. Si ha un rapido assorbimento del contaminante che è in fase di sciolta. Quindi grazie all'assorbimento operato dal carbone attivo si ha un primo processo immediato di rimozione fisica. Un processo fisico in cui intanto si rimuove in maniera molto rapida ogni via di trasporto. Si riducono i rischi legati alle contaminazioni in falda. Al tempo stesso, grazie alla presenza di elettrocettori, si potenzia la biodegradazione naturale degli idrocarburi. Quindi si accelera l'azione dei microorganismi e si aumenta la vitalità in modo proprio da accelerare la vera e propria distruzione del contaminante che si assorbe al carbone attivo. Qui vedete i diversi contaminanti trattabili. È una tecnologia che è stata studiata per trattare proprio gli idrocarburi petroliferi. Vediamo un po' da cose composto nello specifico. Abbiamo visto che è costituito da due componenti. Abbiamo una prima componente che è fornita in fusti da 181 kg che contiene circa un 30% di carbone attivo e elettrocettori sulla forma di solfato di calcio di idrato per circa un 10%. Ora stiamo cominciando a proporre anche, avremo a breve, anche confezionamenti più piccoli di circa 18 kg per applicazioni in siti piccoli o in situazioni di emergenza. Insieme a questa prima componente poi generalmente si coapplica una miscela di elettrocettori che viene fornita in fustina da 10 kg, che può essere una miscela composta da solfati e nitrati o anche solo da solfati, che può essere utilizzata ad esempio in modo da poter utilizzarla anche in caso di particolari problematiche di nitriti in acquifero. In linea di massima è sempre preferibile utilizzare la miscela con solfati e nitrati perché abbiamo visto un'efficienza migliore nel potenziamento della biodegradazione, nello specifico per contaminanti come ad esempio il benzene. Vediamo i due processi di trattamento nello specifico. Allora, inizialmente il carbone attivo si distribuisce e crea una sorta di pellicola attorno ai grani dell'acquifero, quindi attorno alla matrice solida dell'acquifero. Il contaminante va poi ad assorbirsi in maniera molto rapida a queste particelle di carbone attivo. Quindi abbiamo un processo di rimozione fisica pressoché immediato. Si ha poi un ulteriore trattamento che viene potenziato da nitrati e solfati che vanno a potenziare la biodegradazione anaerobica degli idrocarburi. Cosa succede? Nitrati e solfati vanno a stimolare condizioni sintrofiche che servono proprio a sostenere la biodegradazione e ad accelerare quindi la vera e propria distruzione del contaminante anche a lungo nel tempo rispetto al momento dell'iniezione e quindi dell'applicazione di nitrati e solfati. I processi sintrofici, che si chiamano anche di simbiosi mutualistica, sono dei processi per cui diverse famiglie di microrganismi intervengono su diverse fasi di uno stesso processo. Ad esempio qui vediamo il processo di degradazione di catene alifatiche e aromatiche e in questo caso abbiamo degli organismi nitrato e solfato riduttori che intervengono in questa prima fase, degradando le nostre catene idrocarburiche fino a ottenere idrogeno e acetato. Questo processo può continuare finché idrogeno e acetato vengono rimossi, altrimenti possono crearsi delle concentrazioni di idrogeno e acetato che sono tossiche per i microrganismi stessi che operano in questa fase. In questa fase quindi per la rimozione di idrogeno e acetato interviene una seconda famiglia di microrganismi che si chiamano Archea, sono degli organismi metanogeni che metabolizzano i residui di questa prima fase di degradazione e producono anidride carbonica, acqua e metano. In questa immagine vedete il Petrofix concentrato, vedete che sembra tutti gli effetti, sembra un inchiostro, ha una colorazione nera ed ha una viscosità simile a quella di un liquido. Noi cosa abbiamo fatto per creare Petrofix? Abbiamo preso un carbone attivo che è un mezzo assorbente ampiamente utilizzato in tutto il mondo e l'abbiamo macinato in modo da renderlo perfettamente inettabile e quindi particolarmente idoneo per trattamenti in situ di acquifero. Il carbone attivo Petrofix una volta distribuito abbiamo visto si fissa alla matrice solida, in queste immagini vedete dei grani di sabbia, vedete che hanno una superficie estremamente liscia, quindi con una capacità di assorbimento ridotto, applicando Petrofix si aumenta enormemente la superficie specifica in grado di assorbire, quindi si aumenta enormemente la capacità di assorbimento dei contaminanti, degli idrocarboni in falda. Quindi abbiamo una prima fase di assorbimento del contaminante, successivamente i nitrati e i solfati vanno a stimolare la biodegradazione anaerobica del contaminante, quindi la vera e propria distruzione del contaminante. Si può poi in alcuni casi ulteriormente potenziarla con l'applicazione anche di ORC, un prodotto a rilascio di ossigeno che quindi rilascia degli altri elettrocettori che vanno in questo caso a potenziare la biodegradazione aerobica, quindi in alcuni casi si può pensare anche a una coapplicazione. In ogni caso si va a stimolare la biodegradazione in modo da accelerarla e quindi da liberare nuovo spazio sul carbone attivo. Andando proprio a distruggere il contaminante assorbito al carbone attivo, si rigenera il carbone attivo che quindi potrà assorbire nuova massa di contaminante che può arrivare o per il flusso di falda o per retrodiffusione, per fluttuazione di falda, quindi si ha poi un processo che è potenzialmente infinito con una sola attività di iniezione. Vediamo ora gli aspetti relativi all'applicazione. Come sono le attività di cantiere? L'applicazione è estremamente semplice. La prima cosa da fare è diluire la prima componente di Petrofix, quella che contiene il carbone attivo, con acqua. Il fattore di diluizione dipende ovviamente dalle caratteristiche sitospecifiche. Generalmente vediamo dei fattori una 5, una 10. si aggiunge poi la miscela di nitrati e solfati o anche solo di solfati, nel caso di problematiche legate ai nitriti. Quindi basterà poi miscelare con semplici esitatori e poi si applica. Si può applicare a fondo scavo, si può iniettare tramite daily push, quindi in questo caso si utilizzeranno tecnologie di tipo Geoprobe, si può iniettare in pozzo, quindi basterà avere ad esempio semplici pompe a membrana. E per quanto riguarda le iniezioni direttamente in acquifero, quindi tramite pozzi di iniezione o direct push, non saranno necessarie elevate pressioni. La dimensione estremamente ridotta delle particelle ci consente di poter iniettare a bassissime pressioni, quindi senza creare fratture in acquifero. È un carboneattivo, quindi è un reagente molto sicuro all'uso, non sono richiesti particolari dispositivi di protezione. Quindi l'utilizzo e l'attività di cantiere è estremamente semplice. Abbiamo visto che le dimensioni delle particelle di carboneattivo sono una caratteristica fondamentale di Petrofix. Qui vediamo degli esempi di carboneattivo a dimensioni superiori. Un carboneattivo granulare è composto da particelle di circa 400 mille micron e carboneattivo in polvere che è composto da particelle di circa 50-250 micron come dimensioni. Il carboneattivo in polvere è simile a una farina come aspetto. In entrambi i casi per applicare queste tecnologie in acquifero sarà necessario iniettare ad alta pressione, quindi a pressioni superiori ai 4 bar e quindi si provocherà anche una fratturazione dell'acquifero poiché le dimensioni dei pori che si incontrano generalmente in acquifero sono comunque inferiori rispetto alle dimensioni di queste particelle di carboneattivo. Vediamo gli effetti sulla distribuzione relativi alle dimensioni di queste particelle di carboneattivo. In questa presentazione vediamo delle immagini che sono state presentate dall'ente ambientale dello Stato del Colorado la nostra, corrisponde un po' alla nostra ARPA per il Colorado tra l'altro se volete vedere la presentazione qui avete il link in questa presentazione hanno mostrato la distribuzione relativa a carboneattivo in polvere quindi con particelle più grossolane rispetto a Petrofix e vedete che si ha una distribuzione preferenziale nelle vene e nelle fratture in acquifero vedete che sono vene anche di dimensioni consistenti vedete com'è eterogenea la distribuzione quindi questo è quello che vogliamo evitare l'ideale di una bonifica in situ è di ottenere una distribuzione omogenea in modo da avere una bonifica e un trattamento omogeneo Petrofix al contrario del carboneattivo in polvere è una sospensione colloidale abbiamo particelle estremamente fini che quindi possono essere pompate o versate direttamente nella vasca di miscelazione basterà poi una semplice esitazione vedete dal video come come immaginatevi come può essere semplice l'attività di miscelazione le particelle sono estremamente fini quindi resteranno perfettamente in sospensione per un lungo periodo quindi l'attività poi di iniezione sarà molto semplice e non saranno necessarie elevate pressioni quindi non si provocherà fratturazione in acquifero vedete che le dimensioni delle particelle di carboneattivo di Petrofix sono inferiori a diverse geologie anche fini quindi Petrofix è applicabile anche in sabbie fini o in lini vedete che il diametro dei pori è comunque superiore rispetto alle dimensioni delle particelle di carboneattivo quando si va a effettuare una bonifica in situ poi l'obiettivo è di trattare le zone di maggior flusso di contaminante quindi le zone più permeabili quindi è stato osservato che in queste zone le zone più permeabili sono quelle responsabili di circa il 95% del trasporto di contaminante in situ e quindi poi di conseguenza anche fuori situ andando a iniettare in questi strati Petrofix si può proprio immaginare di collocare una sorta di carboneattivo direttamente in acquifero quindi si va iniettando Petrofix si vanno a bloccare diverse vie di trasporto del contaminante come abbiamo visto prima che possono essere dati dal flusso di falda ma anche dalla fluttuazione della falda per percolazione si va a bloccare e a assorbire il contaminante che può muoversi per back diffusion per retrodiffusione quindi si ha una riduzione molto rapida di diversi vie di rischio questo è un esempio di carote che sono state prelevate in terreni dopo l'iniezione di Petrofix vedete che Petrofix è nero quindi si osserva molto bene la distribuzione del prodotto sui terreni queste sono delle immagini che vi mostriamo giusto per dare un'idea anche delle attrezzature che sono ottimali per avere una buona distribuzione di Petrofix ma anche di altre tecnologie in forma colloidale a destra vedete una punta retrattile è una punta che ha un meccanismo per cui si può sollevare o abbassare dall'alto questa sorta di coperchio che ci consente di proteggere la griglia di iniezione man mano che si fa scendere nel momento in cui si fa scendere in acquifero la punta di iniezione e si può poi alzarla raggiunto lo strato di acquifero da trattare in questo modo si protegge la griglia di iniezione dai materiali che eventualmente possono entrare e occludere le fenestrature quindi è una punta ottimale in alcuni tipi di geologie più problematiche generalmente questo tratto con fori questo tratto grigliato è lungo circa 60 cm quindi ci consente anche di avere una distribuzione verticale ottimale a sinistra vedete invece una punta con fori su un tratto che generalmente è di circa un metro quindi anche in questo caso si riuscirà ad avere una distribuzione ottimale sulla verticale in questo caso però non c'è protezione dei fori quindi in caso di geologie problematiche ci può essere il rischio un po' di occlusione noi quella punta maggiormente utilizzata e ottimale è quella di destra in entrambi i casi rispetto alle punte classiche che hanno solo fori in una zona limitata in uno spessore limitato in entrambi i casi abbiamo comunque una distribuzione ottimale sulla verticale che è particolarmente adatta nei casi in cui si devono trattare spessori di acquifero importanti la tecnologia può essere applicata sia con configurazione bottom up che top down quindi dopo la scelta è più legata all'attività dei cantiere e alle caratteristiche sito specifiche e qui vedete alcuni tipi di prove che si possono effettuare in campo per verificare la distribuzione del prodotto una prova molto utile è quella di campionare le acque di falda in prossimità della zona di iniezione subito dopo l'iniezione le acque di falda assumono una colorazione grigiastra che poi ovviamente nel tempo andrà scemando quindi questi test sono comunque da realizzare in un tempo limitato dopo le iniezioni sono test che si possono fare i campioni si possono prelevare sia in piezometri che si possono campionare direttamente con attrezzature di tipo Geoprobe in questo caso può essere una soluzione particolarmente utile nel caso in cui i piezometri siano molto lontani alla zona di iniezione o siano pochi quindi con Geoprobe si riescono a fare molte misure quindi si possono misurare in diversi punti e diverse distanze in diverse direzioni rispetto al punto di iniezione anche in modo molto rapido un altro vantaggio di campionare con Geoprobe è anche che si può campionare su diverse profondità e quindi sia un'informazione più dettagliata su quella che è la distribuzione verticale del prodotto cosa che è più difficile da osservare con i piezometri se non impossibile un'altra prova che si può fare per verificare la distribuzione è quella che abbiamo visto prima è tramite campionamento dei suoli vedete che Petrofix è ben visibile nei terreni quindi si ha in maniera molto rapida e semplice anche un'informazione di questo tipo ora vi ho parlato prima ho accennato a Plumstop che è un'altra tecnologia a base di carbone attivo sia Plumstop che Petrofix contengono particelle di carbone attivo dell'ordine degli 1-2 micron sono entrambi sostanze colloidali sospensioni colloidali che quindi possono essere iniettate a bassissima pressione e non provocano fratturazione in acquifero hanno però delle differenze sull'applicabilità Plumstop è studiato per trattare zone di Plum quindi zone a concentrazioni non elevatissime ma magari particolarmente estese infatti Plumstop ha una concentrazione di carbone attivo più bassa rispetto a Petrofix intorno al 4% però quindi riesce a trattare concentrazioni più basse ma è rivestito in polimeri che gli danno una mobilità molto elevata Petrofix ha una concentrazione di carbone attivo maggiore quindi riesce a lavorare a concentrazioni più elevate ma ha un rivestimento ridotto in polimeri qua c'è scritto di no ma in realtà in parte c'è perché bisogna evitare l'agglomerazione del carbone attivo però è ridotto quindi Petrofix è meno mobile rispetto a Plumstop quindi generalmente le spaziature tra i punti di iniezione sono ridotte rispetto a Plumstop generalmente osserviamo delle spaziature di circa un metro e mezzo due tra i punti di iniezione per Petrofix quindi è più studiato per trattare zone sorgente con elevata massa ma magari un'estensione limitata perché sono necessari più punti di iniezione rispetto a Plumstop Plumstop è una piattaforma è estremamente flessibile è in grado di trattare viene utilizzato sia per il trattamento di idrocarburi che per solventi clorurati e Pifas viene praticamente sempre coapplicato con altre tecnologie che potenziano la biodegradazione aerobica o anaerobica quindi non è al contrario di Petrofix non è formulato specificamente per idrocarburi Petrofix invece ha proprio una una formulazione che gli consente di lavorare nello specifico su idrocarburi perché è anche già premiscilato con elettroaccettori che quindi potenziano la biodegradazione abbiamo visto che Plumstop ha un grande rivestimento in polimeri gli elettroaccettori possono essere consumati per la biodegradazione del rivestimento in polimetri considerata l'alta concentrazione di carbone attivo in Petrofix questo potrebbe essere un problema ed è per questo che il rivestimento in polimeri è estremamente ridotto per Petrofix in questo modo non è un problema per quanto riguarda gli elettroaccettori Plumstop è una piattaforma e viene fornito con anche il servizio di applicazione e di test prima durante e dopo l'iniezione Petrofix invece può essere anche autoapplicato possiamo anche limitarci a fornirvi il prodotto ecco io comincio a vedere le prime domande che sono arrivate non esitate a scriverne in chat e nel frattempo passo la parola a Marcello che vi comincerà a far vedere diversi casi studio e casi applicativi relativi a trattamenti con Petrofix benissimo grazie Mariangela veniamo adesso ad alcuni casi applicativi per renderci un po' meglio conto di come nella realtà si applica il prodotto si comporta che risultati e verosimilmente possiamo attenderci di ottenere e quali verifiche abbiamo sul comportamento duplice del duplice processo assorbimento biodegradazione cominciamo da un primissimo caso che si tratta di un beta site cioè uno di quei siti dove il prodotto viene applicato nell'ultimissima fase di messa a punto del prodotto ci troviamo nell'Indiana quindi negli Stati Uniti è un sito particolarmente complesso è un deposito di combustibile carburante idrocarburi in generale dismesso è stato in attività dal 1917 fino al 2002 la proprietà del sito è quello che vediamo contornato in rosso in tutti questi anni serbatoi fuoriterra serbatoi interrati si è prodotta una notevole contaminazione che ha dato luogo anche a formazione di molto prodotto su una tanta lnapl sia dentro il sito sia esternamente verso valle la falda in questo caso va da sud verso nord la società che ci ha contattato Patriot Engineering ha cominciato a gestire il processo di bonifica susseguendosi ad altre società e nel momento in cui a un certo punto la proprietà ha voluto procedere ad una bonifica che fosse conclusiva per poter mettere in vendita l'area e poi per un successivo risviluppo precedentemente erano state fatte molte attività parzialmente risolutive soprattutto per quanto riguarda la rimozione di lnapl quindi recupero fisico e poi impianti fissi di air sparging solvopore extraction gestiti per più anni quindi a distanza di anni non c'era più presente fase libera ma era ancora presente notevole contaminazione in fase di sciolta quando patrots engineering ci ha contattato la loro idea era quella di farci eseguire un intervento isco e orc quindi isco più biodegradazione aerobica noi guardando i dati del sito abbiamo voluto li testare invece il petrofix esattamente in un'area esterna alla proprietà ma dove nel passato c'era stato del solnatante e quindi è stato eseguito un primo pilota attorno ad un unico piezometro che è questo qui contornato da questo quadrato vediamo subito le concentrazioni iniziali sono particolarmente elevate quindi diverse decine di migliaia di microgrammi litro qui vediamo gli idrocarburi range delle benzine in arancio e range del diesel in azzurro sono anche più o meno le concentrazioni massime a cui di solito si tende ad applicare questa tecnologia non c'era presenza di fase libera ci fosse stata probabilmente sarebbe stata necessaria una prima fase di rimozione eventualmente con il petroclance che è un prodotto di disorbimento chimico potenziato diciamo che il petrofix al massimo è in grado di gestire la presenza di fase libera residuale quindi una lieve iridescenza sulla superficie piezometrica vediamo come dal momento dell'applicazione l'abbattimento delle concentrazioni in fase di sciolta sia particolarmente rapido quindi nel giro del primo la prima campagna di monitoraggio a distanza di uno due mesi le concentrazioni scendono notevolmente e poi si mantengono relativamente stabili questa è una caratteristica abbastanza tipica della tecnologia quindi rapidità e mantenimento stabile sul lungo termine quello che c'è da dire in questo caso è che poi a aprile 2019 quindi praticamente un anno dopo la realizzazione del pilota è stato fatto il full scale il full scale non ha toccato la stessa area del pilota quindi è stato eseguito nelle aree limitrofe attorno questo proprio perché il petrofix come tecnologia è una tecnologia one go ossia devo iniettare un'unica volta e grazie al processo di autorigenerazione del carbone attivo non è necessario tornare a riapplicare quindi la zona pilota non è stata riapplicata probabilmente verso febbraio quindi appena prima della realizzazione del full scale si stava cominciando ad osservare un reincremento delle contaminazioni questo noi l'abbiamo interpretato come aver fatto un'area pilota estremamente ridotta come dimensioni e quindi le aree attorno effettivamente estremamente cariche di contaminazione stavano cominciando a farsi sentire al piezometro di monitoraggio il aver gestito poi nel full scale le aree limitrofe attorno effettivamente ha poi fatto sì che anche nel piezometro di monitoraggio del pilota si ritornasse a vedere concentrazioni più basse questo è idrocarburi e questi invece sono i bitex stesso analogo comportamento con concentrazioni di partenza relativamente più basse vedete che partendo da concentrazioni più basse qui eravamo qualche migliaio si è anche per qualche parametro ad esempio per il benzene e per altri per altri bitex si arriva anche alla non rilevabilità strumentale quindi un'efficienza di rimozione di due tre ordini di grandezza in tempi molto rapidi bene questa è l'evidenza che vediamo dal monitoraggio dei parametri contaminanti sul primo dei due processi ossia quello dell'assorbimento ma quali evidenze abbiamo sul comportamento biodegradativo sono state analizzate linee di evidenza secondarie e terziarie per quanto riguarda il processo biodegradativo innanzitutto dagli elettrocettori quindi dal loro rilascio e il loro successivo consumo questo lo vediamo nel grafico di sopra solfati e nitrati i nitrati hanno un consumo relativamente rapido i solfati resistono più sul lungo termine più o meno i solfati hanno un consumo nell'arco dei sei mesi questo nuovo incremento di nuovo di solfati è di nuovo riconducibile probabilmente all'iniezione full scale nelle aree limitrofe ma quello che è stato molto interessante osservare è che il metano che è quello che è prodotto dai processi di metanogenesi quindi dalla mineralizzazione finale dei contaminanti a partire da acetati e idrogeno in metano CO2 acqua quindi le concentrazioni di metano mi danno un'indicazione della mineralizzazione completa dei miei contaminanti il mio metano resiste sul lungo termine noi abbiamo monitorato fino a circa un anno dal momento dell'iniezione quindi è un po' la conferma di quello che è la nostra ipotesi ossia che noi con i nostri elettroaccettori diamo un kickstart diamo un inizio un incentivo del processo biodegradativo che poi riesce a autoalimentarsi autosostenersi sul lungo termine linee di evidenza ancora più scusate su questo processo della biodegradazione sintrofica noi abbiamo poi redatto un documento tecnico molto più dettagliato quindi se volete poi approfondire sul tema questo technical bulletin è scaricabile dal nostro sito oppure potete inviarci una mail e possiamo inviarvelo via pdf tranquillamente dicevo linee di evidenza ancora più dettagliate ce l'abbiamo da analisi di tipo microbiologico che cosa siamo andati a fare con cadenza trimestrale abbiamo fatto diverse campagne di monitoraggio andando a ricercare sia ceppi microbici specifici sia dei geni caratteristici dei processi di trasformazione di metabolizzazione da parte dei microrganismi e vediamo come ad esempio in questo grafico abbiamo i batteri microrganismi solfato riduttori in verde e il pm1 pm1 è un ceppo microbico che è uno dei principali responsabili della biodegradazione degli idrocarburi ma anche di altri contaminanti ad esempio dell'MTBE vediamo come ci sia una proliferazione che siano come siano estremamente floridi e attivi questi microrganismi questo vi ricordo a fronte di una contaminazione in fase di sciolta praticamente assente che cosa significa che questi microrganismi stanno proliferando e stanno lavorando e vivendo a fronte di una contaminazione che è stata adsorbita sul Petrofix e quindi significa che il contaminante adsorbito sul Petrofix continua a rimanere perfettamente biodisponibile qui abbiamo un altro grafico che esemplifica sempre le stesse campagne di monitoraggio con un set di ceppi e geni ancora più specifico più dettagliato vedete come ci sia un trend per noi è importante osservare che ci sia perlomeno una permanenza delle attività ma abbiamo un trend in generale che va addirittura verso l'incremento delle concentrazioni dei microrganismi veniamo ora ad un altro sito ci spostiamo in Florida tra l'altro su questo secondo sito è disponibile un webinar molto interessante in inglese con guest speaker dato dal il guest speaker è il project manager della società AET Advanced Environmental Technologies è disponibile dal nostro sito internet quindi se voleste approfondire io qui lo racconto in maniera abbastanza sintetica per ragioni di tempi ma ci sono molte informazioni più dettagliate è una stazione di servizio dismessa la stazione di servizio si trova qui in alto nella figura uno dei tre serbatoi interrati nel 2007 a fronte di una prova di tenuta si è visto che aveva avuto una perdita la stazione di servizio è stata dismessa e si è fatto come primissima attività sempre nel 2007 un'attività di scavo che ha tolto la maggior parte della sorgente ma questo scavo è stato limitato per ragioni operative e logistiche soprattutto dal fatto che qui vedete c'è questa qui è una linea elettrica quindi non poteva essere superata questa linea elettrica quindi è rimasta a valle dello scavo una sorgente secondaria residua abbastanza consistente e più che altro cosa ancora più problematica si era già formato un plume consistente al di fuori del sito che andava al di sotto di questa strada questa strada è una strada con elevato traffico quindi qui non sono mai state possibili direttamente né attività di indagini né tantomeno attività di bonifica si ritrovava dall'altro lato della strada dove qui c'è un hotel che è stato dismesso abbandonato e in seguito demolito quindi una delle principali problematiche per questo sito era questa liability ambientale nei confronti di proprietà private di terzi quindi della proprietà di chi si trovava a valle del sito e della strada anche qui nel tempo si sono succedute varie attività quella più importante è stata un impianto fisso di bioremediation che è stato operativo dal 2012 al 2015 nel sito si pensava nel 2015 che le concentrazioni si fossero effettivamente ridotte poi lo spegnimento si è avuto un rebound quindi nel 2016 successivamente è stata fatta un'attività isco è stata iniettata acqua ossigenata coapplicata con nutrienti ma al tutto ha avuto una diciamo un'efficienza abbastanza abbastanza scarsa quello che era la parte rimasta maggiormente contaminata era quella a valle del sito in questa quindi dall'altro lato del marciapiede e soprattutto questo piezometro MW8 che poi vedremo nel dettaglio è quello che rilevava le concentrazioni più elevate in tutto il sito questo è un'altra visuale del sito vedete ci troviamo praticamente di fronte alla spiaggia un sito diciamo anche bello dove poter lavorare che non capitano tutti i giorni quello che per noi è stato anche importante è il fatto che essendo sabbia omogenea era a rigordi logica un sito abbastanza semplice su cui andare ad operare nella realtà erano sabbie abbastanza compatte quindi non così semplici per andarci ad eseguire un'iniezione e qua vediamo in questa tabella le analisi di baseline prima di qualsiasi applicazione vedete come nel 2015 le concentrazioni si sono ridotte fino al spegnimento dell'impianto fisso di bioremediation ma comunque rimanevano ancora superiori ai limiti agli obiettivi che sono quelli riportati in parentesi nella prima linea quello che è l'unico contaminante completamente scomparso dalle operazioni preliminari è il benzene che non compare in tabella perché è completamente sotto gli obiettivi di bonifica qui 2016 è quando è stata fatta l'ISCO ma che non ha avuto risultati particolarmente significativi vedete come queste sono nell'immagine delle fustelle prelevate con il geoprobe che ci fanno vedere le caratteristiche di questa sabbia qui pre-iniezione e questa invece è un'immagine delle sabbie post-iniezione in quelle varie attività di verifica che sono state eseguite che ci fanno vedere come effettivamente si sia riusciti ad ottenere una distribuzione particolarmente omogenea queste sono le immagini delle attività di iniezione pilota fatte attorno al piezometro mw8 che è stato mantenuto come monitoraggio le iniezioni sono state fatte tutte a pressione estremamente ridotta la pressione è stata sempre mantenuta al di sotto dei due bar questo è stato fondamentale per riuscire ad ottenere questa distribuzione particolarmente omogenea nonostante questo le portate di iniezione sono rimaste abbastanza sostenute circa un 40 litri al minuto per singolo punto di iniezione l'mw8 lo vediamo è quello che è con questo chiusino in ghisa carrabbile e rotondo è qui a sinistra nella figura se notate ci sono anche parecchi punti sigillati con cemento questi qui non sono punti di iniezione ma sono i vari punti che sono stati fatti prima di andare a iniettare il pilota ma nella stessa campagna per andare a fare tutte le attività di verifica che erano un po' quelle che vi raccontava Mariangela prima ossia che cosa è stato fatto sono state testate diverse diluizioni del prodotto e per le diverse diluizioni si è visto quali erano i raggi di influenza indotti quindi riuscendo in questo modo a ricavare quale fosse il fattore di diluizione ottimale che si è rivelato essere quello del 6% e quali fossero i raggi di influenza ottenibili come fosse omogenea la distribuzione quindi si è ottenuta che la spaziatura ottimale fosse quella più o meno di un paio di metri di distanza da un punto all'altro questi sono i parametri dimensionali dell'intervento eseguito e questi sono i risultati vediamo anche qui come nel primo sito qui partiamo da concentrazioni più basse le concentrazioni massime sono più o meno di 3000 microgrammi litro per gli idrocarburi e più basse per i Bitex anche qui osserviamo un rapido decremento delle concentrazioni di nuovo entro la prima campagna di monitoraggio ed estremamente stabili qui siamo per tutto il periodo di monitoraggio sotto il limite della rilevabilità strumentale addirittura quindi estremamente rapido ed estremamente stabile come comportamento di nuovo sono state fatte analisi microbiologiche per verificare effettivamente che ci fosse una proliferazione e un comportamento positivo da parte delle colonie microbiche che si è osservato pur avendo completa assenza di contaminazione in fase di sciolta quindi microrganismi che si cibano di contaminante adsorbito sul Petrofix anche qui le campagne sono state fatte con cadenza trimestrale sulla base dei risultati pilota si è quindi andati a dimensionare il full scale qual è stato il principio di fondo si voleva fare un intervento globalmente di intervento a griglia regolare sul zona residua della sorgente secondaria e poi una barriera lungo il fronte di valle la barriera in realtà era stata già completata con l'esecuzione del pilota attorno ad MW8 quindi nella pratica il full scale che è stato proposto agli enti è stato quello di un intervento a griglia regolare sull'area residua della sorgente secondaria su un'area di 150 metri quadrati complessivi vedete di nuovo qui i punti sono stati fatti fino al limitare del marciapiede quindi non abbiamo potuto interessare quello che era la strada perché non si possono fare interruzioni al traffico una griglia con punti spaziati tra di loro di circa due metri questo significato dover realizzare 44 postazioni direct push un totale di 1300 chili di prodotto iniettato sempre sullo stesso layer interessato dal pilota quindi 3 metri e mezzo 4 metri di spessore di trattamento giusto per darvi un'idea di grandezza dell'ordine dei costi questo full scale è costato all'incirca 35 mila dollari e mi riferisco sia alla fornitura del prodotto che all'esecuzione delle attività di iniezione quindi vedete come siano interventi estremamente sopportabili e sostenibili come costi ci è voluto parecchio dal pilota per poter andare a full scale la Florida è particolarmente restrittiva nell'applicazione di nuove tecnologie quindi ci è dovuto essere un iter burocratico particolarmente laborioso finalmente il full scale è stato iniettato a inizio 2020 non abbiamo ancora disponibili nessun dato di monitoraggio qui il covid 19 anche a noi non ci aiuta da questo punto di vista perché il monitoraggio al momento non è previsto è stato interrotto speriamo di poter avere a brevissimo i primi dati di monitoraggio quello che sarà importante osservare saranno le concentrazioni quindi l'abbattimento dei contaminanti nei piezometri interni alla zona di trattamento e anche che il nostro famoso mw8 continui a monitorare concentrazioni basse al di sotto o al di sotto del limite di probabilità o perlomeno al di sotto di quelli che sono gli obiettivi di bonifica passiamo ad un terzo caso ci troviamo in questo caso in Iowa questo caso è interessante per due motivi uno è stata la primissima applicazione di petrofix in scavo noi l'abbiamo ingegnerizzato e pensato soprattutto per andarlo a iniettare in pressione a basse pressioni ma iniettarlo o dare push all'interno di pozzi in situ nell'acquifero ma nulla ci vieta di ipotizzare anche applicazioni scavo ed è inoltre la primissima applicazione co-applicazione del petrofix con l'ORC ossia come vi diceva Mariangela all'inizio il petrofix già contiene al suo interno degli elettroacettori nitrati e solfati ma nulla ci vieta di aggiungere addirittura anche quello che è l'elettroacettore più comune più frequentemente utilizzato nel nostro settore che è l'ossigeno perché è quello che sviluppa delle cinetiche di biodegradazione aerobiche che sono più rapide rispetto a quelle anaerobiche e quindi con un composto a rilascio di ossigeno che è il nostro oxygen release compound ORC advanced l'intervento è a Fordodge ed è stato eseguito dalla società Antea Group che tra l'altro ha dovuto eseguire varie attività di indagini integrative per infettire la maglia e capire meglio come fosse come dovesse essere scavata l'area in funzione dell'estensione della contaminazione ci troviamo con una geologia particolarmente complessa perché i suoli sono poco permeabili e prevalentemente argillosi quello che è stato fatto è alla fine dello scavo che è stato eseguito nell'estate dell'anno scorso andare ad applicare Petrofix ORC sia sul fondo dello scavo stesso quindi miscelato con il terreno di fondo sia poi andandolo a applicare sulle pareti in totale sono stati usati 1600 kg di Petrofix e 500 kg di ORC Advanced la particolarità di questo intervento è anche il fatto che il prodotto sulle pareti è stato applicato in forma spray questo ci è consentito dal fatto che il prodotto è una sospensione liquida estremamente stabile quindi consente anche l'applicazione spray non si comporta come un solido vediamo un video se riesco a farlo partire che ci fa vedere appunto questa applicazione spray e ci fa vedere anche come è il prodotto puro vedete come si ha già una sospensione molto fluida questa è l'applicazione e questa è un'esemplificazione un'animazione che ci spiega come poi si va a far attivare il processo biodegradativo una volta che il carbone attivo si aderisce alle pareti del suolo veniamo ora a descrivere e vedere quelle che sono le configurazioni le tipologie di applicazioni che sono più comuni per l'applicazione di questa tecnologia probabilmente quella in assoluto più frequente è un'applicazione con un approccio di tipo a griglia di solito sulle sorgenti secondarie è un po' l'applicazione che è quella del full scale del secondo caso di studio quello della Florida ossia andare ad intercettare con una griglia regolare di punti tutta la zona di sorgente secondaria maggiormente contaminata ulteriori applicazioni e configurazioni possono essere invece quelle di andare a realizzare delle barriere un po' sempre sullo stesso sito della Florida quello che è stato fatto come pilota sull'MW8 quindi andare leggermente più a valle di quella che è la sorgente secondaria e andare a intercettare l'area contaminata per fare in modo che al di fuori furiescano acque pulite se lo immaginiamo sulla nostra normativa italiana ad esempio una delle configurazioni che ci viene maggiormente richiesta per il Petrofix è ad esempio andare a fare delle barriere appena a monte di quelli che sono i confini di proprietà e se immaginiamo ad esempio una stazione di servizio che è ad esempio una tipologia di sito dove può essere facilmente applicato il prodotto noi ci troviamo con aree sempre dalle dimensioni molto piccole quindi i confini di proprietà molto spesso si trovano molto vicino alle zone serbatoie erogatori molto vicino alle sorgenti quindi in queste condizioni qui probabilmente nella maggior parte dei casi ci troviamo con una massa presente che in molti casi è difficilmente gestibile ad esempio dal plumstop il plumstop potremmo andarlo a pensare di applicare più a valle il Petrofix invece è perfettamente in grado di andare a gestire queste concentrazioni più elevate altre configurazioni ad esempio potrebbero essere invece quelle di andare a cercare di proteggere direttamente dei soggetti recettori sensibili ad esempio dei pozzi ad uso idropotabili dei corpi idrici superficiali oppure anche quello di andare a fare una gestione di un plum immediatamente dopo la scoperta di una contaminazione e prima di andare a fare tutte le attività previste dal procedimento di bonifica quasi come in una fase emergenziale che cosa significa io intanto impedisco che la situazione peggiori nel nel mio sito e nei mesi e negli anni successivi posso concentrarmi nelle fasi di indagini caratterizzazione analisi di rischio rimozione delle sorgenti bonifiche interne eccetera senza aspettarmi che in questi anni la situazione sul plum vada peggiorando può essere anche questa una possibile configurazione di intervento un'altra e lo abbiamo visto possono essere applicazioni scavo tra l'altro le applicazioni scavo possono essere sia in scavo nell'insaturo come è l'esempio che vi ho fatto vedere ma anche benissimo scavo dove le attività di scavo intercettano la superficie piezometrica e quindi dove ci sia la falda a giorno gli obiettivi da applicazione in scavo sono un po' quelli di evitare una futura ricontaminazione dell'area di scavo ma poi evitare e inibire anche percolazione di contaminazione e anche quello che la falda andando ad oscillare possa entrare in contatto e portare essa contaminazione o essere essa stessa contaminata quindi cercare di evitare processi di migrazione successiva della contaminazione altre tipologie di interventi possono essere interventi in emergenza come ad esempio questo caso di studio inglese e possono essere ad esempio da sversamenti accidentali quindi serbatoi di olio combustibile in aree in edifici residenziali o incidenti su strada con sversamenti o perdite da oleodotti e frazioni da oleodotti il prodotto ben si presta ad essere anche adottato ed applicato quando la conoscenza del modello concettuale è ancora a livelli preliminari quindi non ha necessità di una conoscenza estremamente approfondita quindi può essere anche applicato in via iniziale per poi con eventualmente future migliori conoscenze e approfondimento del modello concettuale del sito magari poi andare successivamente a ritoccare l'intervento o andare a scegliere addirittura una tecnologia di bonifica diversa però in questo modo io in forma estremamente rapida quello che è importante riduco la potenzialità di espansione degli impatti e del mio problema e poi applicazione in terreni insaturi questo è una particolarità abbastanza peculiare del Petrofix rispetto ad altri prodotti Regenesis ad esempio è il prodotto che probabilmente meglio si presta all'applicazione in situ in terreni insaturi può essere fatto sia attraverso aree di scavo sia per percolazione dall'alto l'obiettivo è quello di limitare e inibire la mobilizzazione di contaminante durante il processo di infiltrazione di acque meteoriche o per fluttuazione del processo di falda questo esempio è un sito ad esempio in Svezia su un'area ferroviaria ma potrebbe essere in qualsiasi tipologia di area e inoltre questo è un esempio da parte della società Candle di nuovo in Inghilterra può essere a scopo preventivo quindi possiamo ipotizzare addirittura di applicare il prodotto in aree che ad oggi non sono contaminate quindi prevedendo o un eventuale fenomeno di spill contaminazione future quindi possiamo prevedere di applicarlo attorno a serbatoi attorno a linee il carbone attivo rimarrà così sul lunghissimo termine quindi nel caso in cui poi quel serbatoio dovesse perdere in futuro perlomeno siamo andati a limitare quelli che sono i potenziali danni futuri eseguibili il fatto che sia iniettabile ci permette di avere un intervento relativamente a basso costo che potenzialmente ci limita grossi danni futuri oppure andare a fare delle barriere dove ad oggi non c'è contaminazione ma dove prevedo che tra x mesi o x anni possa arrivare il contaminante di nuovo il carbone attivo rimarrà lì e nel momento in cui comincerà a arrivare il plume sarò già in grado di gestirlo dall'inizio qui quello che non lo specifico ha fatto la società Candle loro dovevano gestire ed eseguire per un risviluppo di un'area uno scavo per le fondazioni di un edificio e questo scavo doveva essere in falda la falda era contaminata non a causa del sito ma perché il sito a monte era contaminato quindi gli entrava acqua contaminata hanno fatto una barriera di Petrofix a monte in modo da poi poter gestire acque di falda nel loro scavo che fossero pulite questo anche è un approccio eseguibile con questa tecnologia benissimo quindi in sintesi quali possiamo dire che sono le caratteristiche peculiari di questa tecnologia l'abbiamo visto estremamente versatile quindi si presta benissimo a diverse tipologie di applicazioni insaturo applicazioni con configurazioni a griglia barriera applicazioni scavo zone di sorgente zone di plume eccetera ed è estremamente semplice e sicuro all'uso quindi i miei operatori non sono esposti a rischi particolari tra l'altro arrivando direttamente in una sospensione liquida non ho neanche la gestione di polveri perché non arriva polvere di carbone e quindi non ho rischio polveri e poi essendo carbone attivo non è per nulla corrosivo quindi non mi devo preoccupare di compatibilità con materiali con nessun tipo di materiale quindi estremamente sicuro anche applicato in estrema vicinanza a qualsiasi tipologia di sottoservizio o struttura interlata grazie al fatto che una sospensione liquida di particelle colloidali di dimensioni estremamente ridotte riesce ad essere applicato a basse pressioni in alti volumi senza problemi e questo gli riesce a consentire di avere una distribuzione eccellente questo è fondamentale per il processo di adsorbimento che è un processo fisico e quindi ha bisogno di una distribuzione virtualmente ottimale del prodotto all'interno della zona di trattamento estremamente semplice da iniettare e da miscelare per la miscelazione e l'iniezione non abbiamo bisogno di attrezzatura particolarmente evoluta sono sufficienti attrezzature per miscelare e iniettare liquidi tanto per dire come pompe le pompe più frequenti che si utilizzano sono pompe a membrana la cortezza nella maggior parte dei casi di utilizzare le punte se stiamo iniettando dare il push che ha illustrato Mariangela all'inizio che migliorano quella che è la distribuzione del prodotto grazie alla minimizzazione delle sovrappressioni locali attorno al punto di iniezione e poi è estremamente facile e immediato verificare come lo sto andando a distribuire è nero e quindi il Petrofix è il tracciante di se stesso sia sui terreni che sulle acque e tra l'altro sono operazioni di verifica che sono estremamente semplici da eseguire a bassissimo costo non devo portare campioni al laboratorio quindi ho una risposta immediata di quello che è la distribuzione e questo mi aiuta anche nella stessa campagna di iniezione a migliorare fare delle piccoli ritocchi nelle pressioni nella spaziatura eccetera per migliorare ulteriormente la distribuzione se dovesse essere il caso questo è un punto estremamente fondamentale e poi come qualsiasi altro prodotto Regenesis c'è tutto il supporto tecnico da parte di Regenesis noi quello che facciamo tipicamente è proporre e valutare dimensionamenti sito specifici quindi sulla base dei dati di un sito contaminato che ci viene sottoposto dimensioniamo e proponiamo un intervento con l'utilizzo del prodotto quindi valutando quelli che sono i dosaggi ottimali del prodotto eventualmente da comiscelare coapplicare con altri prodotti ma poi è disponibile tutto il supporto tecnico disponibile online quindi white paper le istruzioni di applicazione che sono estremamente dettagliate i webinar incluso questo webinar i technical bulletin video eccetera e inoltre la presenza di casi di studio che sono disponibili online tra cui i casi di studio che sono stati illustrati in questo webinar sono disponibili anche online insieme ad ulteriori casi di studio sulla tecnologia e su altri prodotti benissimo con questo ho concluso e direi che abbiamo qualche minuto per andare a rispondere alle vostre domande probabilmente non riusciremo a rispondere a tutte comunque poi ci ripromettiamo nei prossimi giorni di a quelle soprattutto a quelle a cui non siamo riusciti a rispondere adesso di mandarvi un'email con la risposta alla vostra domanda grazie marcello si leggo giusto alcune domande perché in effetti siamo siamo arrivate un po' lunghi poi comunque vi risponderemo via email allora leggo le prime arrivate allora il petrofix è utilizzabile in argilla o altre formazioni impermeabili allora noi ad oggi abbiamo applicato anche in formazioni poco permeabili come sabbie fini limi sabbiosi è l'applicazione particolarmente difficile in limi e argille molto compatte diciamo che per darvi un ordine di grandezza possiamo considerare più o meno come limite una conducibilità di 10 alla meno 6 metri al secondo diciamo che ad esempio se avete un'argilla e un plum particolarmente steso è facile che la zona non sia interamente impermeabile e in quei casi si può convenire fare delle vintagini supplementari in modo da capire se ci sono zone di flusso preferenziali zone con maggiore flusso di contaminante quindi in chei casi si potrebbe pensare o di realizzare una fase di caratterizzazione complementare o anche di fare test direttamente durante il pilota di iniezione di Petrofix vedendo quando durante l'iniezione si si osservano dei cali rapidi di pressione di iniezione nei casi in cui si trovi di fronte a un'argilla molto compatta magari in un'area ridotta probabilmente sarebbe indicato preferire altre tecnologie come l'ORC la tecnologia rilascio di ossigeno controllato che non lavorando per contatto come Petrofix che ho per assorbimento anche si riesce non lavorando per contatto si riesce anche indirettamente a potenziare la biodegradazione dei contaminanti quindi in quei casi potrebbe essere più indicato vediamo un'altra domanda il Petrofix può essere utilizzato vicino a serbatoi interrati sì allora non è un materiale corrosivo quindi può essere applicato vicino a fondamenta in prossimità di serbatoi interrati tubature è diverso non è corrosivo a differenza ad esempio dei reagenti a base di persolfato quindi non ci sono particolari controindicazioni per questo tipo di applicazione casi di studio in Italia e all'estero allora in Italia abbiamo da poco avuto il primo sito in cui il prodotto è già stato applicato in particolare in una stazione di servizio sappiamo che l'intervento è andato molto bene abbiamo avuto un riscontro positivo dal cliente e anche da chi ha effettuato l'applicazione quindi non ci sono stati problemi durante l'attività di iniezione e anche i risultati analitici sembrano molto buoni non abbiamo ancora messo mano sui dati però abbiamo avuto un buon feedback dal cliente per il resto ad oggi in Italia abbiamo circa una ventina di siti in cui è previsto Petrofix da progetto alcuni sono progetti in fase di approvazione altri sono progetti già approvati che per cui adesso l'esecuzione è un attimo in stand by però per cui è prevista poi l'applicazione quindi considerato comunque considerate le tempistiche medie degli iter di approvazione per noi sono numeri molto positivi abbiamo riscontrato un forte interesse per questa tecnologia nel mondo ad oggi abbiamo già realizzato circa 150 applicazioni facciamo una media di due o tre applicazioni a settimana per quanto riguarda l'Europa abbiamo già applicato in circa una quindicina di siti in diversi paesi europei quando si sceglie Petrofix rispetto a Plumstop allora Plumstop è stato ideato per trattare zone di Plum quindi concentrazioni meno elevate e zone anche particolarmente estese perché riesce ad avere una spaziatura più estesa rispetto a Petrofix Plumstop può essere utilizzato anche in caso di contaminazioni da solventi clorurati mentre Petrofix non è adatto per questi tipi di trattamento Petrofix ha una distribuzione inferiore ma riesce a lavorare a concentrazioni molto più elevate quindi è particolarmente adatto a zone sorgente che magari possono essere limitate e dove quindi anche il raggio di influenza non influisce particolarmente non è un grosso problema anche avere una spaziatura leggermente ridotta tra i punti di iniezione può essere utilizzato vicino a recettori sensibili come corpi d'acqua superficiale o pozze d'uso idropotabile allora ecco una cosa che vi ho anticipato Marcello è che noi non ci limitiamo a fornire il prodotto ma generalmente diamo assistenza anche nella fase di dimensionamento e in quella fase in cui si decide il layout e il dosaggio del prodotto valutiamo vari aspetti sitospecifici varie caratteristiche quindi sicuramente la vicinanza a recettori sensibili è un'informazione importante per noi e che sarà presa in considerazione al momento del dimensionamento e al momento in cui si definiscono si definisce il layout di iniezione e la localizzazione dei punti di iniezione c'è da considerare che basterà comunque fare in modo che il raggio di influenza dei punti di iniezione di Petrofix non vada a intercettare il recettore sensibile considerate che Petrofix raggiunge qualche metro quindi generalmente una distanza di qualche metro è già sufficiente per preservare il recettore sensibile io con le domande mi fermerei qua sì ne ho solo ho visto che ci sono ancora alcune che sono arrivate negli ultimissimi momenti risponderei solo ad alcune raggruppandole poi le altre rispondiamo effettivamente via mail perché è troppo tardi allora delle domande relative a quanto permane nel sottosuolo il carbone attivo il carbone attivo permane sul lungo termine quindi diciamo che perlomeno per decenni permane come carbone attivo e attivato quindi il processo di attivazione dura e ai nostri fini quindi di sicuro durerà molto di più rispetto a quelle che sono le tempistiche che noi prendiamo in considerazione per il processo di bonifica poi sul lunghissimo termine quindi con i decenni e con i secoli possiamo ipotizzare che perda parte del processo di attivazione e rimanca come carbone non attivato con minore superficie quindi si comporta come un normalissimo carbonio alterazione sulle concentrazioni di metalli per quanto riguarda il carbone attivo no non più di tanto potrebbero esserci delle alterazioni legate agli elettrocettori ma bisognerebbe guardare poi in maniera più diciamo più mirata e più specifica ma uno dei vantaggi dell'utilizzo del carbone attivo sia come Petrofisk che come Plumstop è che di per sé la tecnologia non comporta alterazioni temporanee nelle concentrazioni dei metalli in fase di sciolta che invece altre tecnologie possono comportare poi domanda se può essere utilizzato solo per gasolio e benzina o anche per idrocarburi pesanti tipo oli combustibili va bene per qualsiasi tipologia di idrocarburi ci sono tante applicazioni anche ad esempio su serbatoi di olio combustibile utilizzato per caldaie per il riscaldamento quindi anzi più l'idrocarburi è pesante più è affine al processo di adsorbimento perché è meno affine quindi è più affine al carbone attivo ed è meno stabile in fase di sciolta e quindi il petrofix risulta avere elevate efficienze con queste tipologie di contaminanti poi una domanda relativa a qual è l'origine del carbone attivo e se questa composizione è fissa oppure può cambiare in funzione di vari fattori il carbone attivo è a base di cocco quindi un carbone attivo vegetale e l'origine è sempre la stessa al momento non stiamo prendendo in considerazione di variare la composizione del carbone attivo ma e quindi il carbone attivo è della stessa origine sia per il petrofix tra l'altro che per quanto riguarda il plumstop tantissimi ci avete chiesto la disponibilità della registrazione webinar a tutti i partecipanti quando nel momento in cui la registrazione sarà pronta arriverà un email con la registrazione quindi potete o voi rivedervela se ve ne siete persi un pezzo eccetera oppure potete condividerla con i vostri colleghi a chi pensate possa essere interessato benissimo chiuderei qui vi ringrazio a tutti per la partecipazione estremamente elevata per l'interesse e a risentirci al prossimo evento grazie a tutti di nuovo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti